Ciao a tutti sono all'esterno dell'aeroporto internazionale di Napoli a Capodichino pronta a raccontarvi Airport Access Act in Innovation History una storia di innovazione soluzioni e idee per migliorare la mobilità da giovedì 15 marzo e per tre tappe vi racconteremo questa storia di innovazione soluzioni e idee per migliorare la mobilità insieme a grandissimi stakeholder di mobilità ambiente e sociale che hanno selezionato 51 talenti provenienti da Italia Europa e tutto il mondo che si sfideranno per trovare un'idea per migliorare la nostra mobilità e in grandi centri come Napoli è davvero davvero difficile trovare una soluzione per migliorare ma ce la faranno si scontreranno si raggrupperanno in squadre e vedranno di trovare un'idea che ci cambi completamente la vita noi vi racconteremo in video in tappe una delle quali si svolgerà addirittura nella Apple Academy che cosa succederà quindi seguiteci sui social e non ve ne pentirete 51 talenti straordinari sviluppatori digitali creativi ingegneri manager startupper informatici c'è addirittura un umanista un filosofo insomma non perdete questi grandi appuntamenti in diretta da Napoli con Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino e Federico II Università degli Studi di Napoli ciao